Ciao Verdastri, un video di fine anno anche da parte mia. Sono un po' tutti in subbuglio mentre dicono Oh mio Dio, l'ultimo video del 2015! Ci vedremo nel 2016! Che sì, è divertente una volta, due volte, però farlo ogni anno magari anche no. Comunque sia, io mi unisco all'hashtag lanciato da King Helgard e cioè boicottiamo i botti. I botti danno numerosi problemi, soprattutto a piccoli animaletti che possono morire di crepe a cuore e i cani che scappano quasi sempre se sono liberi. Io però cercherei di venire incontro un po' alla tradizione dei botti e alla sicurezza dei cani e della piccola fauna del nostro paese. E cioè, direi, boicottiamo i botti, però usiamo magari le fontane. Le fontane non fanno il botto, però sono molto carine. Magari stando attenti di non dare fuoco a quello che resta della flora italiana e usiamo piuttosto le fontane e le stelle, quelle che si usano per fare tutte le scritte che vengono fuori benissimo nelle foto, a me non è mai riuscito. Quindi usiamo le fontane e boicottiamo i botti. Detto questo, vi auguro ancora una buona fine e un buon inizio d'anno, un anno più consapevole, come sapete bene, e vi auguro di essere sempre più verdi. Ciao a tutti i verdastri!